Il Volley Club Sciacca ha staccato il pass per la finale promozione in B, durante cui si sfideranno le squadre vincitrici dei due gironi A e B del campionato di Serie C maschile. Il team di Enzo Graffeo si troverà di fronte il Volley Valley Catania, squadra che ha già affrontato nell'ambito della finale di Coppa Sicilia. La regular season si è chiusa quindi con lo Sciacca in vetta alla classifica. L'ultima partita di campionato ha visto esercensi a spugnare il campo del Terrasini per 1-3 attraverso questi parziali, 25-19 per i padroni di casa, poi 13-25, 8-25 e 23-25 per gli ospiti. Anche il Termini Merese ha vinto ed entrambe le squadre hanno chiuso il torneo con 49 punti. Lo Sciacca però, in virtù della classifica avulsa, ha vinto il proprio girone, relegando i palermitani agli spareggi playoff. Lo Sciacca ha chiuso ufficialmente la regular season con 17 vittorie e una sola sconfitta, 52 sette fatti e 12 subiti. Adesso la sfida al Catania, partita molto difficile ma non impostibile per lo Sciacca, che culla il sogno promozione. Vittoria è periodo positivo anche per la squadra femminile del Volley Club Sciacca, di Nino Marchese e Irene Di Mino. Le Saccensi, nell'ultimo turno del campionato di Serie D femminile girone A, hanno superato per 3-2 il Primula, un match molto combattuto concluso con questi parziali. 25-16 per le Saccensi, doppio 23-25 per le ospiti. Infine la rimonta delle padrone di casa per 25-18 e 15-8 al tiebreak. Grazie a questi due punti lo Sciacca arriva a quota 18, circa a metà classifica, mentre per il primo la Volley si tratta del primo punto del proprio torneo. Adesso, nel prossimo fine settimana, un turno di riposo con il Volley Club Sciacca femminile, che tornerà in campo sabato 20 aprile, in casa contro l'Autosystem Palermo. E chiudiamo con il podismo. Alcuni podisti di Sciacca hanno partecipato alla prestigiosa Milano Marathon, maratona internazionale alla quale hanno partecipato ben 8.500 atleti, provenienti da tutta Italia, con la presenza di parecchi atleti stranieri. A farla la padrone, in campo maschile, gli atleti keniani, con la vittoria di Kip Kosgei. In campo femminile vince a sorpresa invece l'etiope Kebe Yaiu. Quattro i atleti seccensi presenti in gara, Lillo Alonge, Giuseppe Livio e Calogero Lauretta per la Sciacca Running e Giuseppe Chiarantano per la Gatocle. Alonge, alla sua decima maratona, ha chiuso in 4 ore 5 minuti e 50 secondi. Livio, autore del suo personal best sulla distanza, ha chiuso in 4 ore 6 minuti e 18 secondi. La oretta in 4 ore 57 minuti e 43 secondi e Chiarantano, infine, ha chiuso oltre le 5 ore.